Il tempo passa e anche se in città non si respira quell'euforia, quella frenesia del passato, i playoff comunque incombono e dietro l'angolo c'è il classico pericolo che ha un nome e due colori, i rossoneri del Foggia allenati da Zeman, una squadra che solamente otto giorni fa ha sancito la chiusura amara del campionato dell'Avellino con un 2-0 che ha spedito i bianco-verdi al quarto posto con annessa contestazione dell'intera piazza, delusa dalla regular season dei Lupi. Ora l'occasione del riscatto per ricominciare tutti insieme proprio contro quel Foggia che non ha fatto altro che rendere più profonda la frattura tra squadra e tifoseria, a questo Avellino credono in pochi ed è proprio per questo motivo che la formazione di Gautieri dovrà reagire con orgoglio e dignità per amore della maglia e della tifoseria che non aspetta altro che un segnale che faccia capire che la lezione è servita. A Vellino Foggia mercoledì sarà lo Spartiacque con gli Irpini che giocheranno per il doppio risultato al termine dei 90 minuti regolamentari e con i pugliesi che andranno all'assalto obbligati a vincere per passare il turno. Sull'offensività dei ragazzi di Zeman non ci sono dubbi ma un Foggia sfacciato potrebbe significare anche vulnerabile in difesa. Dovrà essere bravo soprattutto Gautieri a non commettere gli errori dello Zaccheria, d'altronde il presidente D'Agostino è stato chiaro giovedì pomeriggio, sbagliare è umano, perseverare è diabolico, ultima chance per salvare la stagione altrimenti sarà un probabile repulisti ovviamente nei limiti del possibile.